Buongiorno a tutti amici, eccomi tornata con una nuova ricettina andiamo a preparare un'altra cosina light, visto che devo seguire la dieta eccoci pronti per preparare insieme la zuppa di cavolo nero a modo mio la prima cosa che dobbiamo fare è mettere l'olio nella pentola quando inizia a sfrigolare aggiungeremo i fagioli vado ad aggiungere l'acqua quasi a coprirli un pezzico di sale grosso ecco pronta la mia zuppa di cavolo nero, potete andare nel mio canale e trovare altre ricette light, vi chiedo come sempre di passare nei commenti qui sotto per farmi anche semplicemente un saluto o una richiesta per una ricetta che magari volete vedere realizzata da me in alto a destra del video vi metterò il link di un'altra ricetta e comunque potete farvi una passeggerina per il mio canale e troverete sicuramente qualche ricetta che potrebbe interessarvi un saluto a tutti e alla prossima lascia la mia la mia la mia la mia la mia la mia